Cosa farete da grandi? Vi aspettiamo fuori, nel mondo. Con questo slogan è stato presentato il calendario di eventi formativi organizzati dal progetto Lume che raccoglie 11 tra le più grandi aziende del comparto metalmeccanico della provincia unite per realizzare, con il supporto di Confindustria Toscana Nord, iniziative in favore del territorio. Iniziative partite nei giorni scorsi con Orienta Giovani Lab, organizzato insieme al Teatro del Giglio. 75 studenti della scuola media del Prete sono protagonisti di incontri in cui i ragazzi descrivono ed esprimono liberamente desideri, paure, obiettivi che a maggio si concluderanno con una rappresentazione teatrale. Da sempre il progetto Lume, quindi Lucca Metalmeccanica, ha puntato sulla formazione e sulla collaborazione con le scuole della provincia di Lucca. La formazione è una cosa fondamentale per le aziende e la collaborazione con la scuola è una cosa altrettanto fondamentale e strategica. Il progetto Lume è una delle attività che Confindustria Toscana Nord fa sulla formazione per i giovani ed è una delle eccellenze sul territorio anche da quando Confindustria Toscana Nord si è riunita con Pistoia e Prato. Gli altri appuntamenti in calendario coinvolgono un migliaio di studenti, dalle elementari alle superiori. Tra i più importanti, venerdì 17 novembre, il PMI Day, la giornata nazionale di Confindustria. Gli stabilimenti ospiteranno giovani provenienti dalle scuole tecniche del territorio per una visita come elemento di orientamento professionale. Martedì 28 novembre, al Giglio, lo spettacolo di Orienta Giovani, scritto da Morena Rossi e Cataldo Russo, dedicato ai ragazzi delle medie che devono scegliere la scuola superiore.